Buongiorno a tutti, allora sul sito di Scuola TDM sono uscite le uniche due date italiane del 2019 per i corsi che sono, non te lo dico, vai a vedere il calendario purtroppo quest'anno mi sto, cioè purtroppo per fortuna dipende dal punto di vista ma mi sto dedicando anche a un nuovo progetto, sempre su te rocchi, sempre con Scuola TDM che mi sta assorbendo molto tempo, però mi ricarica pure e il lavoro all'estero ovviamente da giugno ad agosto quindi, visto che è il lavoro con gruppi chiusi il mio consiglio è quello di andare a vedere sul calendario se la data e la città ti sta bene qualora ti stesse bene, fai due click, ti iscrivi e ci vediamo